Musica Potrei restare ancora un po' qui a potenziare Maizanaginokami Piccaro Ma sinceramente preferisco lasciarlo un attimo da parte e andare avanti col palazzo di Maruki Tanto come ho già detto qua nel Memento ci ritorneremo perché ci saranno altre missioni da completare Quindi, quindi, quindi direi di andare a prendere le persone che ci servono E ora possiamo tornare indietro Abbiamo fatto tutto ciò di cui avevamo bisogno Finiamo qui per oggi Andiamocene Ritorno al mondo reale del Memento Grazie per il lavoro svolto Grazie a te Metanab Non hanno messo che abbiamo sconfitto iose? Strano Oh, c'è da c'è Me lo sentivo che stavi per tornare Oh, so giro Ariara ha scritto un post sul fansite Ha raccontato la verità di tutte le ragazze E sta anche restituendo loro i soldi sottratti Non so come farà Memento per quelle che ha ferito O quelle che se ne sono andate da scuola Niente più vittime però Già, è certamente qualcosa di cui rallegrarsi Credo che questa missione mi abbia fatto ripensare a tutta la faccenda di Kamoshida Lui era più popolare Sebbene abusasse del suo potere per ottenere tutto ciò che voleva A quel tempo mi sentivo come se non avessi altra scelta che assecondarlo Perciò quando sembrava che Ariara stesse manipolando quelle ragazze allo stesso modo Non lo so Credo che un po' di quella rabbia abbia ripreso il sopravvento È un po' imbarazzante col senno di poi Mi dispiace Non preoccuparti Grazie Fionix Sono lieto di vedere Lady Anne così felice Il suo sorriso rende tutto più sopportabile È solo un messaggio Chiudi il becco Lo vedo nella mia testa, va bene? Certo, tutto quello che vuoi La mamma ha scritto un post sul fansite Avrà controllato la cronologia Aveva trovato i post della figlia Si è scusata per tutto Faranno anche un viaggio di famiglia In un parco divertimenti Sembra anche più in sé di prima Credo stia molto meglio Lieto che abbia funzionato? Sì Scommetto che avrà ricevuto un bel abbraccione da sua madre Quasi quasi Sono invidiosa Ah, quasi Eh, penseresti che sia un po' più sincera con sé stessa Ma se ci pensi Non l'avremo mai risolto senza Futaba Se l'avessimo considerato un falso allarme Chissà quanto sarebbe peggiorata la loro vita Futaba ha risposto al grido d'aiuto È stata gentile a lottare per loro Così abbiamo salvato quella famiglia È vero? Quel cliente che chiedeva di essere ucciso Ha ritirato la richiesta I fratelli stavano per essere separati Ma Su sorella ha parlato Era davvero contraria Quindi è stato annullato tutto A volte ha paura di lui Ma gli vuole comunque bene E lo apprezza Ehi In sostanza è quello che diceva lui nel memento Immagino abbiano un vero legame fraterno D'ora in poi si sosterranno a vicenda E si faranno aiutare dagli adulti se serve È così commovente Stai piangendo? Ma no È che sta piovendo Sulla mia faccia Comunque ottimo lavoro Quindi alla fine sono andati a vivere insieme Non so se è una buona idea o meno Ma finché ritroveranno il legame che li unisce Credo che andrà tutto bene Altri messaggi Dai Ho letto il fansite Mi fa piacere che il risveglio del cuore abbia migliorato le cose Eppure questa richiesta mi ha fatto pensare alla mia situazione Quei due Mi hanno ricordato la situazione tra me e mia sorella Voglio dire Anche lei In un certo senso Beh non importa Quello che provi non è sbagliato Hai proprio ragione Grazie Fionix Giusto Anche Makoto vive da sola con sua sorella Credo che anche lei ne stia Ne stia passando tante Ha messo i suoi sentimenti contrastanti eh Questa richiesta ci ha davvero fatto riflettere Ma basta messaggi L'ho appena messo via È incredibile che qualche successo nel Memento Il suo potere ha qualcosa di terribile Non credevo che Memento potesse scendere così in profondità Sono enormi Salire vorrei dire Ho perso il conto del tempo che abbiamo perso su quelle scale Vero eh Non è un posto adatto a chi ha un fisico da gamer Dirò una cosa ovvia Ma quando hai braccia e gambe stanche Lo stretching aiuta sempre Anche un bel massaggio ai punti di pressione può fare bene Uh oh L'atleta se ne intende A proposito Non avevi detto che dopo saresti andata agli allenamenti su Mire? Sì sto proprio per iniziare Ma come fai? Dove prendi tutta quell'energia? Beh sta a te decidere Cerca soltanto di non stancarti troppo Se sprechi tutte le energie Non solo sarai inutile in battaglia Sarai incompeso per tutti Allora mi assicurerò di non esagerare Beh dovremo infiltrarci di nuovo nel palazzo Spero che non troveremo la strada bloccata Speriamo proprio di no Kawakami ci sei per un massaggio? Perfetto Allora oggi è martedì Quale cocktail c'è al Jets Club? Non mi ricordo Sembra che il cocktail di stasera sia lo Spritz Plus Il gusto del drink ti conferirà potere e fortuna Potrai difenderti da qualunque cosa Interessante Il cantante si esibirà fra due giorni Fra due giorni quindi giovedì Quindi oggi aumenta le abilità fisiche Il che non sarebbe male né per Ryuji né per Yusuke Il giovedì invece aumenta le abilità magiche Ok potrei venire qui con Han Han praticamente è la mia best magica assoluta Quindi ha senso che vada con lei ogni giovedì Nonostante anche in realtà Makoto comunque con la magia mica se la cava male Però beh visto che siamo già qui sfruttiamo il Jets Club Entriamo ed invitiamo Che volendo anche su Miri e Akechi possiamo invitarli però Ryuji e Yusuke sono appunto quelli che stanno nella squadra da più tempo e più tempo Ryuji ha forza 79 in questo momento Yusuke ha forza 91 quindi è un'altra categoria addirittura Ok invitiamo Ryuji Che Ryuji nonostante tutto con mano di Dio Le menate di quelle belle forti le tira Allora farò una passeggiata Dopo Quando Ryuji apprende mano di Dio credimi è proprio Carica a mano di Dio Ryuji è di un'altra Proprio un altro livello così Capo per me è il solito Nah come no Ah oggi una limonata mi piace Un po' marroncina Niente male ha un gusto maturo Eh il girocchi fa un po' schifo eh lo immagino Ebbè Ultimamente fatico a concentrarmi sullo studio Con questa storia della Con tutti questi impegni Non che prima studiassi granché Ma questi tempi ci metto ancora meno Poi però Quando inizio a fare un po' di movimento Mi dimentico di tutto il resto Sono un tipo semplice Eh certo L'hai già detto quindi Penso che tu non abbia nient'altro a dirmi Ryuji vero? Abbiamo finito per parlare un bel po' Ma è sotto tempo ben speso Che dire Credo di essermi fatto un bel esame di coscienza Non so Non male come sensazione però Perfetto Sono contento per te Due di forza Bravo Bravo Ryuji Perché la tua resistenza certo È uno dei tuoi punti forti Però Se anche riusciamo ad aumentare la forza Non sarebbe male Ryuji Non sarebbe male Ci si vede Buona serata Oh ma dai Del tempo libero Su cominciamo la lezione Avete compreso l'argomento della volta scorsa? Anna Però Fusumi si è pregata di recarsi subito in sala docenti Che cosa sarà successo? Allora mi raccomando Studiate da soli Mentre mi reco in sala docenti Me ne vado con la mano sugli occhiali Cosa vuoi fare? Strumenti? Allora che cosa possiamo fare? Potrei fare qualche cannone ad aria Che ne ho di meno di tutto il resto Però farei giusto per Anche Tre bombe Meghido E appunto Altri tre cannoni ad aria Perfetto Tutto completato Ma alla fine non era nulla di importante Riprendiamo la lezione Sei stato bravo Comunque dovremmo ringraziare Kawakami Ovviamente Gli dia A fine anno Gli regaliamo un pacco di biscotti E diciamo grazie Kawakami patata lei Eccola lì appunto Domani arriva la neve Credete che ci sarà una vera bufera? Chi lo sa A Tokyo la neve fitta Si vede di rado Prevedo forti nevicate Ma sarà bagnata Quindi non si poserà neanche Fonte è un tizio in tv Oh no I miei fiori Dovrei andare a controllare Sono certo che staranno bene Ma se ti serve una mano Ti aiuterò come posso Certo Anche Ryuji può Ehi Non puoi offrire un altro come volontario Non che non lo farei però Se c'è da sollevare grossi carichi Faccio a caso tuo In realtà Se cadrà davvero così tanta neve Credi che avrà qualche effetto Anche sul mio metaverso Dovremmo tenerla a mente Nei nostri prossimi piani Per domani È vero Si avvicina alla scadenza C'è ancora tempo Ma prima si fa meglio è È vero Quanti giorni abbiamo? Nove giorni Entriamo oggi Credo che sarà una buona idea Yusuke Ma prima Uno devo andare a controllare Anch'io le piante Ehi Aru Come stanno i miei fagioli? Konnichiwa Konnichiwa Ed ecco a te Tre fagioli Allora Fagioli ne abbiamo appunto tre Perché le abbiamo usati tutti Le cipolle ne abbiamo sette Quindi Ancora fagioli per favore Saranno pronti L'uno ventisette Grazie Aru Sumire Sumire Era proprio quello che speravo Grazie Sumire Questo è il nostro ultimo incontro E il tuo potenziamento Signorina Usciamo insieme patata rossa Uscire? Ma dobbiamo fare qualcosa Prima che sia troppo tardi Non pensarci Hai ragione Mi sto lasciando sopraffare E non posso dare il meglio Se vado in fissa Grazie per l'interessamento senpai Per oggi rilassiamoci Stavo andando a eseguire Il mio esercizio per la coach Speravo che potessi venire A guardarmi Phoenix senpai Sono certa di poterle dare La risposta attraverso Il mio esercizio Se hai un po' di tempo per me Fallo per favore Va bene È il nostro ultimo incontro D'altronde Dopo di quello Secondo risveglio Anche per te Grazie Allora Prepariamoci Andiamo in palestra Va bene Oh Sono contento Sono proprio contento Scusami Se ti ho fatto aspettare Wow Stai bene in quel vestito Sembra che La mia coach Deba ancora arrivare È vero Quando coach Shikurachi Assista alle mie esibizioni Sono sempre nervosa Allora Anche perché è parecchio Che lavoriamo insieme Non voglio deluderla Ma oggi Oggi mi sento carica Sei raggiante oggi Grazie Quando dici cose come queste Sento che tutto Andrà per il verso giusto Grazie per aver trovato il tempo Per venirmi a vedere Volevo davvero ricevere Una valutazione oggettiva Da parte tua Oggi è una faccia severa Assumire Sì signora Sento che l'esercizio di oggi Andrà bene Beh guardandoti Si può dire che ti senti fiduciosa Tuttavia Sono qui per valutare La tua performance Non per ascoltare me Mentre ti vanti E basta Comincia Sì signora Anche la sua posizione iniziale È cambiata Merito tuo per caso Guardi Ma davvero? D'accordo Si comincia Oh Se ci fosse stata un'altra musichetta Sarebbe stato ancora più carino Questo pezzo Secondo me Grazie per aver assistito Sei maturata molto Sumire Non ti dico nulla di nuovo Ma la strada per il successo mondiale Sarà molto dura Sei pronta? Assolutamente Sarò la numero uno Del mondo della ginnastica Artistica Il nostro sogno Sarà realtà Mi fa piacere Sentirtelo dire Con la tua grazia naturale La tua determinazione a vincere Non importa quanto sia difficile Il tuo sogno Non è più impossibile E sei stata tua a deciderlo Non io Eh? Non te ne sei resa conto? Per la prima volta Mi hai detto che vincerai Nelle gare internazionali Fino ad oggi Hai soltanto detto Spero di vincere Nient'altro Oh Sbaglio O non eri da sola In questa tua missione? Coach Sì Esatto È bello sapere che a fianco a te C'è qualcuno che ti capisce Ho veramente apprezzato La tua performance oggi Non vedo l'ora della prossima lezione Oh Brava coach Alla coach Gurachi È piaciuto il mio esercizio Devi essere felice Non riesco a descrivere Quanto sei felice Sono tipo Super Iper strafelice Grazie a te Finalmente ho trovato la risposta Che stavo cercando E spero di scoprire Mentre mi esibisco Quella è la cosa più importante per me Non riuscirò mai A ringraziarti abbastanza Davvero? Non abbiamo ancora finito Ah Ottima osservazione Sono solo nella linea di partenza Scusami se lo ripeto fino alla nausea Ma sento di dovertelo dire Sono così grata di averti conosciuto Phoenix Senpai Nel tempo passato con te Ho imparato un sacco di cose Ora posso mostrare a tutti come mi sento veramente E insieme saremo i signori della ginnastica Percepisco un forte legame Oh Che tra l'altro adesso Aspetta Io sono te Tu sei me Hai trasformato un'alleanza In un patto di sangue Questo legame diverrà le ali della ribellione Spezzerà così il gioco che soffoca il tuo cuore Hai infine di svelato il segreto più recondito della fede Che ti conferirà un potere infinito Ogni volta che faccio questa cosa So che voi non lo vedete Ma faccio lo shinkiko Non chiedetemi perché Rango massimo E abbiamo sbloccato Maria Ecco quello che stavo dicendo Ora in teoria Se noi fossimo fidanzati Lei farebbe una cosa Ora che non siamo fidanzati con lei Non so se la farà Lo scopriamo tra poco Ed è bella la sua seconda persona Devo ammetterlo È bella perché Adesso lo vedete È la rappresentazione femminile di Arsène Guardatela È Arsène femmina Questa è la nuova me L'ho finalmente trovata Senerentola La persona di Sommieri Si è trasformata in Banadis È Arsène femmina questa Scopriamo se fa quello che pensavo Mi è venuta un'idea Ti va di seguirmi in tournée Fionix senpai Saremo io e te e Kasumi Noi e te contro il mondo Insieme Dacci un taglio Prendo il passaporto Sto scherzando Non importa dove mi esibirò Anche dall'altra parte del mondo Mi sentirò come se tu fossi con me A proteggermi Lo credo con tutto il mio cuore Grazie infinite per avermi dato il tuo sostegno oggi Spero che potremmo rimanere così affiattati Fino a raggiungere la cima Sento ancora l'adrenalina in corpo Devo continuare a muovermi Senpai Alleniamoci un altro po' Cominciamo con dello stretching Faremo una serie completa Spero che tu sia pronto Non hai vestiti da ginnastica Abbiamo aumentato 5 HP Ma guarda che bella Allora è bella perché è bella Però è palesemente arsène femmina questa Comunque quello che vi stavo dicendo prima è Se noi fossimo stati fidanzati invece dell'allenamento Ora noi due ci saremmo abbracciati Sarebbe stata una cosa carina da vedere Ma peccato che non è successo Allora evita maledizione È una cosa buona da avere Anche se abbiamo già danza di ali In ogni caso io toglierei Kogan E lascerei Makogan Così almeno siamo sicuri che su Mire Le maledizioni non se le prende addosso Ah niente 5 HP Cioè lo stretching che abbiamo fatto era finto Ciao senpai Volevo ringraziarti per tutto Mi sa di essere riuscita finalmente a superare il trauma Sono pronta a essere una campionessa internazionale E Kasumi Sarà lì insieme a me Ecco perché voglio far tornare questo mondo come era un tempo Voglio mantenere la promessa Conto su di te allora Fantastico Farò tutto il possibile per appoggiarti Io te e Kasumi Insieme saremo invincibili Stavo pensando di legare di nuovo i capelli So che sembra presuntuoso Ma mostra la mia determinazione Come un promemoria In modo da ricordare che sempre i sentimenti di Kasumi Oh scusa per aver parlato così a lungo Spero che insieme riusciremo a fare del nostro meglio Ok buonanotte E ora che Kasumi è a posto Maruki È arrivato il tuo momento Oh No strano Oggi è mercoledì Il mercoledì è un livello in più più 10 SP Nulla di importante in realtà Quindi giusto per cambiare un po' la serata Io andrei A Kanda Ma giusto per passare un po' di tempo con i fumi Giusto per Non lo so Cambiare un po' la nostra mentalità Nelle fasi finali La velocità può essere cruciale Più di ogni altro vantaggio acquisito Quando l'incro E l'incontro volge al termine I generali diventano sacrificabili Per catturare il re nemico Tuttavia sono principi validi solo nello shouji Nella vita reale Nessuna strategia è così netta Mi piacerebbe insegnarti lo shouji In un luogo diverso Una volta ogni tanto Per cambiare atmosfera Magari un posto all'aperto E non troppo affollato Anche se Forse non ci sono molti posti simili Beh allora Facciamo una partita Perché no? Giusto perché non abbiamo niente da fare Passiamo del tempo con lei Forse dovrei invitarla al parco Inokashira Va bene Capisco Un'ottima idea Ti sembrerà strano Ma vorrei che mi ci portassi Potrei avere un'ispirazione per una nuova mossa Chissà Può essere Alla fine siamo sempre qui Al parco Inokashira Sì Sento che qui posso giocare a shouji Con un ritmo diverso Il paesaggio I suoni Gli odori Potrò utilizzare tutti e cinque sensi Forse Mi verrà anche qualche buona idea innovativa Stimolante vero? Sì Risveglio una sensibilità diversa dal solito Aiuta a scogitare nuove mosse Grazie allo shouji Ho scoperto nuove opportunità Sei come un pezzo dello shouji Dotato di mosse infinite Chissà che tipo di persona diventerai Già immaginare le possibilità è divertente Ho la sensazione di essere sul punto di scoprire una nuova mossa Chissà Magari sì Bene Ora che siamo rinvigoriti Giochiamo una partita leale Va bene Ho già un forte legame con i fumi Oh giusto Una cosa che i fumi potrebbe piacere Considerate i fumi Credo che sarebbe lieta di ricevere qualcosa di rilassante Il set aromi pregiati? È un set aromaterapeutico di lusso Oh che profumi piacevoli e rilassanti Quando il mio cuore è tranquillo Posso scogitare quasi ogni mossa possibile Sono felice È un regalo perfetto Sembra che tu mi abbia letto nel pensiero Oh Carucetta lei Sembra che io abbia proprio catturato il cuore di fumi Sarebbe meglio smettere per oggi Ciao i fumi Buona serata Abbiamo anche sbloccato un trofeo secondario Va bene ci sta Ah e siamo riusciti a sederci È vero Non abbiamo più libri da leggere Quasi quasi vado un attimo in biblioteca Prendo un libro a caso Giusto per Buongiorno Cacchio quanta neve Si gela Ma è anche una figata Che ne dici pensi che i memento siano cambiati Devo prepararmi Diamo un'occhiata quando sei pronto Ti va? Promettimi che ci farà un pensiero Va bene? No Non lo farò Ryugi dobbiamo andare nel palazzo Chissà come stanno le verdure sul tetto Non ne ho idea Ci infiltriamo nel palazzo? Molto probabilmente Makoto Giusto curiosità Andiamo davvero a vedere le piante Le mie piantine Bene Bene Ora che abbiamo preso anche un nuovo libro Infiltriamoci nel palazzo Mmm Buono sto caffè Ciao senpai Oh Hai fatto presto Beh mentre venivo qui ho avuto anche una rivelazione E quindi ho affrettato il passo Non vedevo l'ora di parlartene Spara Ecco Ed è tempo che mi chiedo Se non sia possibile dare il mio tocco negli scondri nel memento Un tocco eh Ti è venuto in mente qualcosa? Sì Però ho un piccolo favore da chiederti Phoenix Senpai Quello che faremo è Ed ecco la mia idea Capisco Molto interessante Sento che questa mossa mi permetterà di onorare Kasumi come si deve Allora che te ne pare Phoenix Senpai? Sembra una figata Grazie Questa coreografia sarà una vera bomba Lo speciale di Phoenix Senpai è stato sbloccato Non ho mai visto nulla del che somiglia a quello che hai in mente Non vede l'ora di assistere Non ti deluderò Tutta contentina lei Oggi andremo al palazzo vero? Adesso possiamo avanzare Forse non ho ancora la certezza Spero che passeremo senza problemi Ma se dovesse accadere qualcosa? Comunque sia dobbiamo andare a controllare L'atmosfera nel mondo reale inizia a cambiare Non possiamo permetterci di aspettare oltre D'accordo Ma la decisione spetta a Phoenix Esatto La decisione spetta a me Morgana intanto lì sul tavolo Non toccarmi Futaba Non toccarmi Lasciami in pace Lady Anne per favore Non mettertici anche tu E allora Infiltriamoci nel palazzo Andiamo Chi c'è in squadra? Han, Haru e Akechi E allora Andiamo Andiamo Grazie a tutti.